No, abitemi via! No, abitemi via! No, abitemi via! a terra, non le dire... a tutti i ma... le azioni sono diverse o a mezzo... mamma mia mamma mia ci piglia lì, sei sentenza sei sentenza c'è ferma va tirati in porto a mascova che li hai tirati? no, guarda un'ottima va bene ha fai sigo piedi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.